I volontari roccellesi dell'associazione Avis sono scesi in piazza aderendo all'iniziativa Un Bonsai per le Alliance, al fine di sostenere la prevenzione e la lotta contro l'infezione da HIV. Il ricavato della vendita delle note piante bonsai, simbolo della lotta all'AIDS, sarà interamente destinato a sostenere la ricerca clinica, la prevenzione dell'infezione da HIV e la lotta allo stigma verso le persone affette dal virus. Peraltro, l'edizione 2016 vanta di una novità. Il vaso è d'autore realizzato ad hoc dal famoso designer Andrea Castrignano. L'Avis di Roccella è anche oggi in piazza con la vendita di questi bonsai per un'iniziativa con l'AIDS. Questa è una delle tante volte che siamo qui in piazza, siamo stati per tante iniziative, è una delle tante. Invitiamo i cittadini che passano nel paese a comprare una bella piantina per far sì che andiamo ad aiutare questa associazione. Grazie.